Ai quarti di finale di Europa League sarà Lazio-Salisburgo, l'andata all'Olimpico, non sono contentissimo perché preferivo fare l'andata poi al ritorno ma va bene, diciamo che c'è andata bene, però voglio sottolineare un attimo le qualità del Salisburgo che è una squadra molto ostica perché non è una squadra che si trova lì così per caso ma viene da un lavoro che parte dal settore giovanile perché Salisburgo ha vinto la Yacht League che mi pare sia la Champions dei giovani battendo 5-0 il Paris Saint Germain, battendo quindi Real, Barcellona, tutte le squadre migliori d'Europa le ha battute e alcuni di quei giovani che appunto hanno vinto l'anno scorso la Yacht League sono appunto i prima squadra, alcuni sono andati a giocare in altre squadre quindi una squadra ostica che non a caso ha battuto il Borussia che in questo momento il Borussia è anche più scarso della Lazio però comunque è sempre una ottima squadra Borussia Dortmund che ha tradizione europea poi ci sarà Arsenal, CSKA Mosk, quindi vedo Arsenal nettamente favorito Atletico, Sporting Lisbona, lo Sporting non è male ma raga, favorito l'Atletico e poi sono contento che si affrontano Lips e Marsilio, perché il Marsilio io lo volevo evitare perché con Garciano non ci voglio giocare, poi il Marsilio è un'ottima squadra quindi Lips e Marsilio si potrebbero eliminare a vicenda, spero passi in Lips e quindi una concorrente forte diciamo se ne va comunque non sottovalutiamo Salzburgo raga mi raccomando e poi a quelli che dicono che culo raga bisogna arrivarci poi il sorteggio è casualità ovviamente però devi arrivarci se tu sei uscito te ne stai zitto, te ne stai zitto, qualsiasi squadra prende te ne stai zitto comunque ecco mi dimenticavo e devo salutare allora Lorenzo Lattini, ciao un tifoso della Lazio e poi se volete vedere i sorteggi della Champions passate dal canale di Relolo in alto destra nelle schede vi lascio il suo canale che ha fatto il video di sorteggi di Champions perché c'è stato Juve Real e lì può passare chiunque e poi Roma-Barcellona raga, penso che passi il Barca senza ombra di dubbio però nel calcio non si sa mai, poi il solito culo del Bayern col Sevilla e Liverpool City favorito al City ma un bel derby inglese signori ci vediamo il 5 aprile con l'Europa League con Lazio-Salisburgo bella, daje Lazio, daje fino alla fine andiamo a vincere la questa competizione, daje, daje